Isolamento e distanziamento. Sono state queste le parole d'ordine che hanno accompagnato le nostre vite in questi anni di pandemia causata dal covid-19 che ha rivoluzionato i nostri stili di vita facendoci vivere in modo anomalo e sovvertendo le regole sociali delle nostre quotidianità. Negli istituti penitenziari, che in Italia sono tra i più sovraffollati, la pandemia ha acuito problemi preesistenti, complicando gli aspetti sanitario e sociale della gestione dell'emergenza e le politiche di contenimento del contagio. Di questo si è parlato nel convegno Il pianeta carcere al tempo del covid-19 organizzato all'Aurum di Pescara dalla professoressa Emma Altobelli, ordinaria di Epidemiologia e Medicina Preventiva del Dipartimento Mesva dell'Università dell'Aquila, in collaborazione con l'Ordine dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri della provincia di Pescara. I dati epidemiologici presentati durante il convegno sono stati lo spunto di riflessione per il possibile miglioramento organizzativo assistenziale degli istituti penitenziari, come spiegato dalla professoressa Altobelli. Ci siamo interessati soprattutto di valutare la presenza di comorbidità nei detenuti, perché è un aspetto fondamentale, perché come sappiamo anche la gravità della malattia da covid impatta di più se la persona ha una o più comorbidità. Infatti le patologie che maggiormente abbiamo rilevato sono riguardanti l'apparato respiratorio, il cardiocircolatorio, la presenza di diabete e poi in alcuni casi abbiamo avuto anche patologie endocrinometaboliche abbastanza rilevanti. Che cosa è risultato? In realtà l'aspetto fondamentale? Innanzitutto che all'aumentare dell'età, come è noto, aumentano le comorbidità e che anche all'aumentare del numero delle comorbidità anche la patologia è risultata più impegnativa, più importante. Ma un aspetto rilevante da dire, che abbiamo visto sia nel carcere di Sulmona che in quello dell'Aquila, è che non ci sono stati interventi di terapia intensiva, ma soltanto ricoveri anche esterni nell'ambito del reparto di medicina. Ma non è stato solo l'aspetto sanitario a ingigantire i problemi degli istituti penitenziari italiani. Notevole è stato anche l'impatto sociale, legato all'ulteriore isolamento di luoghi già di per sé chiusi e caratterizzati da molte restrizioni, come spiegato da Carmelo Cantone, vice capo nazionale del Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria, che ha aperto il convegno con una lettura magistrale. La scomparsa per settimane e per mesi di tutto il territorio che prima agiva nella stagante marginale degli istituti penitenziari evidentemente ha abbassato di molto i livelli di vivibilità degli istituti. Quello che è accaduto nell'anno in corso è proprio un'accelerazione del percorso invece di ripresa dell'apertura degli istituti, con maggiori progettazioni, con maggior impegno sulla creazione di spazi e di attività sia nel campo della formazione del lavoro che nel miglioramento di spazi per le attività culturali e ricreative e poi soprattutto una ripresa delle attività con il mondo del terzo settore.